Il fenomeno del bullismo, ne stiamo parlando, ci stiamo occupando di questa realtà con l'Avvocato Ginalupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. Analizziamo ovviamente i soggetti, analizziamo le conseguenze, ma bisogna anche scavare sulle cause, su questo background che determina la figura, la realtà del bullo. Il bullo, scusatemi il bisticcio di parole, l'attuale bullo, perché diventa bullo? Beh Luigi c'è un contesto familiare e c'è un contesto culturale che dobbiamo analizzare. Il contesto familiare è un bambino che vive in una famiglia dove vige la prepotenza, la violenza, il non rispetto per l'altro. Quindi a sua volta magari viene fatto oggetto di violenza e di abusi da piccolo, abbiamo visto, magari da qualche fratello grande e nessuno interviene, nessuno lo aiuta. Quindi avrà questo come modo di relazionarsi, la violenza e la prevaricazione, per essere qualcuno, per sentirsi qualcuno. E poi ancora peggio, ed è difficile la soluzione secondo me in questo caso, è il contesto culturale. Un contesto culturale è quel contesto dove viene premiata la prepotenza, dove viene premiata l'arroganza, dove viene premiata... Perché no Luigi, consentimi anche la furbizia, il farsi largo con mezzucci vari, questo è molto più difficile da combattere. A noi il compito primario che è uno, si può sconfiggere il bullismo, guarda io voglio lanciare questo messaggio solo se si isola il bullo. Se il bullo rimane solo, guardate, è come un soldato senza armi, un lupo senza le unghie o i denti, cioè perde tutta la sua, come ho detto prima, la sua forza. Perché lui, alla sua forza è data dalla platea, che lo guarda e non interviene, è data dalla vittima, che soffre in silenzio, e da chi gli sta intorno, il fiancheggiatore, il gregario, l'amico, il chilo so bella, per sentirsi qualcuno. Ma una volta creata una maggioranza non più silenziosa, ma una maggioranza che interviene e che parla, l'unione fa la forza. Luigi, quante volte l'abbiamo detto? Beh, in questo caso l'unione fa la forza e il risultato è l'unica soluzione possibile per poter sconfiggere il bullismo. E poi anche la scuola che deve fare la sua parte.